Uomini e donne, Teresa Cilia è criticata dopo un estetico, non penso di essermi rovinata perché. Teresa Cilia è intervenuta sul suo profilo social per replicare ad alcuni commenti poco carini arrivati in seguito al suo ritocchino alle labbra. L'extronista di Uomini e Donne si è recata alcuni giorni fa da un chirurgo plastico, in compagnia di Armando Incarnato. Teresa ha replicato agli haters così. Come sempre succede sempre una tragedia per qualsiasi cosa. Ma io dico una persona può fare quello che vuole della sua vita. Del suo corpo, cioè può essere libera o deve chiedere il permesso a voi? Io certi commenti non li capisco. Intanto, numero uno è il filtro che le gonfia tanto, sono ancora fresche ma non è niente di così esagerato. Di quello che pensate voi. Detto questo io vivo lo stesso, non mi faccio nessun tipo di problema. Era una cosa che ho voluto fare, non penso di essermi rovinata perché non mi sono stravolta. Cerchiamo di moderare il linguaggio. Un conto è esprimere il proprio parere in maniera educata. Un conto è offendere. Intanto ci sono i filtri e i filtri le gonfia, seconda cosa sono state fatte adesso. Arrivare a dire che c'è stato un cambiamento radicale mi sembra esagerato.